40 anni fa l'agguato in via Notarbarto, le killer arrivano su una moto, la vittima predestinata è un poliziotto, Calogero Zucchetto, Segugio, della sezione Catturandi. Il suo pranzo è un panino al bar Collica, Pino Greco Scarpuzzedda e Mario Presti Filippo gli scaricano cinque colpi di pistola alla testa. C'è anche Giuseppe Lucchese, il gruppo di fuoco delle grandi occasioni. In quel 1982 di sangue muoiono Piola Torre, Carlo Alberto Dallachiesa e tanti altri. Il giornale Lora li conta in prima pagina. Zucchetto 27 anni per un po', Lillo scorta Giovanni Falcone. Poi il lavoro al fianco di Ninnica Sarà, la squadra mobile. Le sue indagini confluiranno nel rapporto Michele Greco più 161, primo embrione del maxiprocesso. Tra le carte il racconto della guerra tra i corleonesi di Rina e Provenzano e i perdenti di bontate. Zucchetto aggancio anche Totuccio Contorno, uno dei pentiti con Buscetta che racconterà Cosa Nostra dall'interno. Dopo l'agguato scatta la diffamazione mafiosa, storia di donne, ma la verità viene fuori rapidamente. Zucchetto paga la caccia ai latitanti, centinaia a Palermo protetti da complicità indicibili. Lillo li cerca uno per uno sul suo Vespino da Via Libertà a Ciaculli, Regno dei Greco. Per le strade incontra Greco e Presti Filippo che lo riconoscono e scappano. Zucchetto riferisce ai colleghi dell'incontro, dello scambio di sguardi pesanti come una condanna. S'apposta per due mesi sul costone roccioso che sovrasta la borgata dove è cresciuto, sulle tracce del boss Salvatore Montalto, fedelissimo di Totò Rina. Lo arrestano il 7 novembre, una settimana dopo la vendetta. Oltre ai killer saranno condannati i boss della cupola. Per Zucchetto una medaglia alla memoria, ricordarlo oggi anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.